oggi siamo con daniele di biase un fotografo per passione e con lui vogliamo parlare di un metodo di scrittura che la fotografia tanto è vero che fotografia significa scrivere con la luce descrivere con la luce daniele ti faccio due domande in una cos'è la fotografia per te e come ti ci sei accostato per me la fotografia innanzitutto è una passione ecco la mia forse la mia passione più grande però in realtà sono tante cose in una oltre ad essere una passione è un il mio modo di esprimermi perché tante volte non riesco ad esprimermi bene a parole preferisco esprimermi con la fotografia poi lascio a chi visualizza il tutto l'idea di quello che magari volevo dire è uno stile di vita è una è vita e magia sono veramente tante cose accomunate in una che questo meraviglioso mondo che la fotografia ecco anche perché se ci pensiamo noi quando facciamo una foto catturiamo un istante quell'istante e perpetuo rimane per l'eternità così cioè quell'istante catturato in una frazione di secondo poi sarà per sempre così quindi diciamo che creiamo dei ricordi facendo queste queste istantanee in realtà mi sono avvicinato alla fotografia credo già da bambino perché mi divertivo a giocare a scattare qualche foto con la vecchia analogica di mio padre e poi in realtà in nel periodo universitario mi ci sono avvicinato più concretamente ecco iniziato appena dopo l'università ho acquistato la mia prima macchinetta fotografica e da lì ho iniziato a scattare principalmente il paesaggio all'inizio perché abbiamo questo bel mare da noi e l'ho sfruttato subito poi in realtà io sono un ex cestista quindi ho iniziato con con lo sport quindi fotografando la pallacanestro la squadra della città durante le partite quindi quello è stato il mio primo approccio diciamola alla fotografia ecco tu hai però anche qualcosa di particolare da raccontarci in realtà si negli ultimi nell'ultimo periodo mi sto prendendo diverse soddisfazioni ecco ho conosciuto tramite una una mia cara amica non che collega fotografa una mostra collettiva che si fa a roma che è chiamata il mostro ed è una mostra a libero dove partecipano diversi fotografi professionisti e non e ho partecipato una volta come ospite diciamo come visitatore e ho conosciuto tanti di questi fotografi ho conosciuto l'ambiente mi è piaciuto tantissimo e l'edizione successiva ho partecipato provato a partecipare poi li entri attraverso una selezione sono stato selezionato con uno scatto e ho partecipato a roma per la prima volta sono uscito diciamo dalle mura della mia città ed è stata un'esperienza veramente fantastica raccontiamo un po di cosa si tratta che scatto è lo scatto ritrae trent e moller che un dj danese di musica elettronica durante la sua esibizione al seren festival di vasto nel 2017 lui è in ombra principalmente ma ci sono dei fasci luminosi dietro di lui che creano una sorta di geometria e dinamicità allo scatto e questo scatto è piaciuto al relatore luciano infatti grazie a luciano e stefania che sono riuscito ad entrare in questa famiglia chiamiamola così poi da questa mostra a roma si è arrivato in francia e si da questa mostra a roma poi c'è viene selezionato per andare in uno dei festival più importante a livello europeo che è l'era incontro della fotografia di arles e ho accettato di partecipare e sono anche andato lì a visitare la città la la nostra la nostra esposizione ovviamente tutto il festival perché è qualcosa di incredibile respiri un'aria fantastica io non conoscevo quell'ambiente ed è pazzesco perché tutta la città che una cittadina di 50 mila abitanti tutto il centro storico e non si addobba diciamo per a festa per questo festival quindi ci sono diverse mostre diverse esposizioni anche in luoghi di culto come delle chiese dei palazzi storici e noi eravamo in una via principale del centro in un locale chiamato la mercerie tu cosa porti con te di questa esperienza oltre alla mostra a roma proprio questa qui in francia darla questa esperienza cosa ti lascia e ti permette magari di consegnare anche chi si sta approcciando adesso ad una fotografia più professionale quantunque in maniera abbastanza neofita certo e ma innanzitutto mi lascia un'esperienza incredibile perché è stato il mio primo viaggio in solitaria non avevo mai viaggiato da solo ed è stata già un'esperienza pazzesca questa tra l'altro proprio durante il viaggio ho incontrato una ragazza di roma che esponeva con me quindi è stato bello anche ritrovarsi proprio durante il viaggio insieme a degli amici ed è stata questa esperienza è stata molto gratificante è stata illuminante respirare quell'aria quell'ambiente condividere con tanta gente stranieri e italiani qualcosa di tuo è tutto credo cioè ti da sono rientrato in italia con un bagaglio culturale nettamente superiore e allora cosa diresti ad uno che si approccia oggi alla fotografia beh direi di di provare di scattare perché io ho sempre fatto così sono un autodidatta ho fatto frequentato dei corsi però mi sono sempre buttato e ho cercato di imperare da solo con con i miei mezzi e quindi direi buttatevi perché ne vale la pena poi avrete sicuramente tanti tanti tante soddisfazioni e risultati ci sono anche ovviamente lati negativi ma quelli poi vengono accantonati una volta basta una sola persona anche che ti dice quello scatto gli ha suscitato qualcosa quel tuo scatto ha suscitato qualcosa in lei che ti riempie di una gioia incredibile